Coinvolge 79 lavoratori dipendenti che fanno parte del Consorzio Handicare, il progetto a sostegno di imprese sociali, che ha una durata complessiva di 380 ore, distinta in 5 azioni formative. Il Consorzio racchiude diverse organizzazioni, tra cui la Cooperativa Larca, Cooperativa Un tetto per tutti, Cooperativa Intesa e Fondazione Casa Amica. Il primo modulo sta formando attualmente 20 giovani per un totale di 100 ore, 80 di aula e 20 di project work. Alla fine i giovani otterranno una certificazione come esperti in progettazione europea e reperivento fondi. Dottore Evangelizia, quanto è importante oggi per un giovane saper lavorare ad un progetto europeo? Beh, dipende anche dall'attività di cui si occupa questo giovane, ma c'è un settore che è quello proprio dell'europrogettazione, che ha lo scopo di presentare delle proposte per ottenere dei finanziamenti europei, che poi permettono di svolgere una serie di attività che vanno a beneficio dell'organizzazione per cui il giovane lavora o collabora. Nel caso specifico, qui abbiamo 20 giovani impegnati in un modulo, che è appunto quello legato alla progettazione europea e alla ricerca di fondi. Certo, noi lavoriamo in particolare su un programma della Unione Europea che si chiama Erasmus Plus e che è un programma che finanzia progetti in ambito educativo e sportivo. E dunque questi giovani, questi partecipanti al corso, stanno imparando come presentare dei progetti per realizzare delle iniziative in questo ambito, che è, ripeto, quello educativo e poi anche sportivo. Oggi i giovani sono preparati? Sì, sono preparati e si preparano continuamente, perché questo è un settore che cambia continuamente, perché ogni certo numero di anni i programmi vengono rimodernati, rivisti, poi ogni anno vengono messe fuori delle priorità su cui i progetti devono essere presentati e dunque è un settore che richiede un aggiornamento continuo. La formazione diventa fondamentale? Sì, anche per noi stessi formatori, perché anche noi per poter poi insegnare delle cose dobbiamo tenerci aggiornati su tutte le cose che vengono, su questi aggiornamenti del programma, poi sulle politiche europee, perché gli obiettivi del programma sono legati alle politiche europee, per esempio, l'anno scorso c'era una priorità molto forte in questo tipo di programma per progetti che si occupavano dell'integrazione dei migranti, perché abbiamo avuto questa emergenza migranti, e poi noi riportiamo questi aggiornamenti ai corsisti. Grazie.